Stasera in tv l'ultimo appuntamento con i Medici 2 su Rai 1, ecca voi la trama, le anticipazioni ed il cast delle ultime due puntate Con quello di stasera si conclude l'appuntamento del martedì sera con la fortunata fiction i Medici 2 La narrazione delle gesta di Lorenzo il Magnifico giunge al suo culmine con le puntante 7 e 8 che andranno in onda a partire dalle 21 e 15 sul primo canale della televisione nazionale Per l'occasione al cast che vede come sempre Daniel Sharman nel ruolo dell'assoluto protagonista, Lorenzo dei Medici, e Sean Bean in quello dell'antagonista, l'attore britannico recita il ruolo di Jacopo De Pazzi, si aggiungerà Olbova nei panni di Papa Sisto IV, il Papa che tramò insieme alla famiglia Pazzi l'attentato ai danni dei Medici Stasera in tv i Medici 2, trama e anticipazioni delle ultime due puntate.La settima puntata, intitolata Il tradimento, ci mostra la congiura orbita da Jacopo De Pazzi e dal Papa Sisto IV La furia della famiglia Pazzi è accompagnata in questo piano dall'interesse temporale della Chiesa, i due congiuratori decidono di organizzare una finta pace con Lorenzo mandando a Firenze una delegazione ecclesiastica guidata dal cardinale Viaro Lorenzo accetta la richiesta di pace ed invita gli ex rivali a cena a Palazzo, spoiler, ma il fratello Giuliano, tormentato da sospetti, boicotta la cena e manda a Lai al piano dei costiratuti L'ottava ed ultima puntata, intitolata Consacrazione, ci porta alla cerimonia nel Duomo di Firenze I pazzi sono ancora decisi a scalzare la famiglia Medici per prendere il controllo di Firenze ed il loro sanguinoso piano prende vita Tutti i rappresentanti della famiglia Medici vengono accoltellati, spoiler, Giuliano muore ma Lorenzo riesce a sopravvivere con le sorelle e medita il contrattacco con l'aiuto del popolo Grazie per il like